6 scuole secondarie di secondo grado, una per ogni provincia della Puglia, si sono regate a Brindisi in un'occasione molto importante, la fase regionale della premiazione del piano scuola digitale presso il liceo Ettore Palumbo della città. Si tratta di una competizione a livello territoriale promossa dal MIUR al fine di diffondere la cultura digitale nella scuola italiana, premiando le eccellenze e incentivando così l'utilizzo delle tecnologie. A partecipare sono le scuole superiori italiane con la proposta alla realizzazione di progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto livello di conoscenza tecnica. Grazie al lavoro di alcuni degli studenti e le classe quarta e quinta, il liceo scientifico De Giorgi è finalista la fase regionale, avendo vinto la fase provinciale nel giugno scorso. La manifestazione della premiazione ha previsto la presentazione dei lavori degli studenti attraverso la visione di un video e un breve pitch del progetto, che sono state giudizioni indicati da una giuria, la quale alla fine ho deciso chi rappresenterà la Puglia nella fase nazionale del piano digitale. Alla manifestazione sono presenti il prefetto di Brindisi Valerio Valente, l'assessore regionale Sebastiano Leo, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Anna Camalleri e il sottosegretario dell'istruzione Salvatore Giuliano. Tutti affermano indiscutibilmente l'eccellenza delle scuole pugliesi. Ad aprire la presentazione dei progetti è l'Istituto Panetti di Bari, con l'introduzione della Radio Panetti, a cui segue l'Istituto dell'Aquila di Bat, con la creazione di un videogioco, per poi arrivare alla mostra dell'App Next Palumbo dell'omonimo liceo e il bot Telegram dell'Istituto Pascal di Foggia. Prima della presentazione del tavolo per i povedenti realizzato dall'Istituto Pacinotti di Taranto, le alunni del nostro liceo presentano il loro progetto, focalizzandosi su due esperienze, una per quanto riguarda il funzionamento della stampante 3D e l'altra in campo della fisica. Grazie ad Arduino e all'utilizzo del software per il coding, hanno sfruttato le leggi fisiche per costruire un sensore in grado di misurare la distanza da un oggetto qualsiasi al sensore. Nel video adesso correlato a Think Beyond, si afferma poi l'importanza della programmazione e del coding, e di quanto questo possa essere utile per sviluppare pensiero critico e imprenditoriale, dandone efficaci esempi anche alla giuria. Quest'ultima, alla fine della manifestazione, dopo vari approfondimenti sui lavori di tutti i ragazzi, proclama vincitore di questa fase regionale l'Istituto Pacinotti di Taranto. Grazie a tutti! Grazie a tutti.